della serie ready to drink ragazzi grande classico jack daniel tennis whisky lo trovate ovunque questo e vabbè avete già notato il mio sospiro chi ha visto i miei video precedenti ha già capito andiamo a vedere quanto si avvicina all'originale eccoci andiamo a provare anche questo allora allora tecnicamente tu ti prendi una buona coca cola che non è in quella da non è quella la spina secondo me non è neanche quella nelle bottiglie tra mezzo ma è quella nelle bottigliette di vetro ricetta originale e lì se proprio proprio hai una coca cola non è quella zero zuccheri preferisco quello originale e gli aggiungi la tua bella porzione di jack daniel se proprio ti piace il jack daniel quindi ricorda questa leggerissima sensazione affumicata quindi qui c'è un ricordo per lo meno al whisky al jack daniel cosa che ad esempio nei gin and tonic non non c'è jim sfugge a parte una marca che abbiamo esaminato tempo fa quindi qui perlomeno allora il naso è piacevole che è il naso piacevole non amo questa tipologia di prodotti sia chiaro però gli manca un po di di avvolgenza gli manca un po di corpo gli manca un po di calore ma chiaramente gli manca il whisky gli manca il jack daniel questo è un prodotto da cinque gradi serve per avvicinare appunto i giovani a questa tipologia di bevande e poi per poi per poi portarle no poi puoi portare gli stessi a ha bevuto e molto più diciamo impegnative ma secondo me non ci siamo da un punto di vista anche di cultura adesso per chiama il whisky parti da questo poi diciamo poi adesso ci sarà chi critica il jack daniel tutte strade più a me non interessa e lo andiamo a confrontare adesso con un'altra bevanda a base di whisky così per i haters lo faccio al volo e lo confrontiamo con il william lawson quindi scotch whisky in questo caso scotch whisky più difficile più difficile difficile perché è di solito lo scotch non è disponibile come può essere appunto un tennessee o un barber comunque sia sono curioso anch'io questo lo sento per la prima volta almeno qui senti un ricordo del del jack qui non c'è nessun ricordo di passi scotch whisky il naso si perde qui ecco qui se ti piace allora qui jack daniel lo riconosci ok qui può essere qualsiasi cosa ma non c'entra niente al palato al palato ritrovi le note le cosiddette note di fumo di costiera no dello scotch ma è un ricordo cioè ritrovi le note ritrovi ritrovi il sogno ricordo ecco più che note torno a dire che non sono le mie bevande per me questo lavoro puro qualcuno di voi che mi conosce me l'ha chiesto perché sa che io faccio anche queste cose ma allora tra i due nessuno dei due per quello che riguarda il mio gusto ma se mi punti una pistola alla testa riconosco preferisco questo c'è proprio devo morire di qualcosa no questo non si bella ragazzi sta roba cosa non si beve dentro qui c'è no ma questa roba no no se vi fate un buon bicchiere di vino ragazzi ma bevetevi un prosecco fa 10 gradi anziché 5 ma almeno bevete qualcosa di buono buono a livello di gusto no non è per me per me questo è no ciao ragazzi